Cioccolata è un progetto che si discosta dalla tradizionale produzione di Caterina. È un insieme di brani ambienti sperimentali o di tipo home recording, quindi registrazioni casalinghe, fatte con collaborazioni di parenti e amici. Io sono coinvolto in quanto nel disco c'è una versione live del pezzo omonimo del disco di Cioccolata in cui io e Caterina fraseggiamo, lei con la fisarmonica e io con alcuni inserti di chitarra. La collaborazione con Caterina va avanti da qualche tempo e sono molto contento e soprattutto sono felice di poter dare il mio apporto in maniera abbastanza autonoma, nel senso che Caterina mi ha sempre dato ampio spazio per quanto riguarda gli adattamenti e gli arrangiamenti per chitarra dei suoi brani e apprezzandoli pure. Insomma per cui è una collaborazione diciamo molto formativa se possiamo dire così.